Dopo il corno del Camaleonte è un ritorno in Africa per Alessandro Pucci che torna con questo libro Sotto l'Equatore. Esatto, Sotto l'Equatore è un libro che però in realtà parte da Trapani, perché è vero che la famiglia si trasferisce in Tanzania, ma la partenza è dal trapanese perché la mamma di Francesco, il protagonista, ha degli scavi a Mozia e quindi cercando l'origine dell'umanità parte da Mozia per arrivare agli scavi di Ulduai in Tanzania e da lì inizia un viaggio sulla cima del Kilimanjaro. Abbiamo degli appuntamenti, tu presenterai questo libro a Trapani che poi è la tua città di origine, quindi immagino che per te sia importante. Esatto, esatto, l'ho presentato in varie parti in Italia, adesso torno a Trapani, sono contento di presentarlo domani, che è il 5 all'Enoteca Comunale di Erice, strada del Vina Erice Doc e poi al Chiostro di San Domenico con Giacomo Pilati il 9. C'è un altro appuntamento, il 10 al Lido Smile. Esatto, anche quell'appuntamento, quindi tre appuntamenti, i principali sono appunto questi di Erice e di Trapani, ma c'è anche Lido Smile. Grazie.